come avete appena visto la movimentazione con i manipolatori in deva è facile veloce semplice ed efficiente come funziona il manipolatore autobilanciante cioè si autoadatta il peso del mio oggetto da sollevare e non è richiesta alcuna regolazione da parte dell'operatore come nel caso dei manipolatori pneumatici invece il manipolatore ribilancia il tiro della fune ogni centesimo di secondo quindi in caso di perdita del carico per cura della scatola della cassetta eccetera rimane immobile diversamente dal manipolatore pneumatico che pericolosamente scatta verso l'alto con grave rischio per l'operatore la salita discesa è controllata elettronicamente e nei primi centimetri dello stacco parte dolcemente per poi accelerare questi parametri possono essere regolati chiaramente per adattare pienamente il manipolatore alle necessità dell'operatore questo con un aumento dell'efficienza notevole un manipolatore può essere più veloce di un paranco fino a otto volte rientra pienamente in industry 4.0 in quanto l'elettronica di bordo è già predisposta per interfacciarsi tramite una semplice getting da applicare con il gestionale del cliente in più possiamo dare a moto anche cambiare le regolazioni del manipolatore in funzione del tipo di lavoro da svolgere insomma una macchina efficiente produttiva estremamente sicura e con caratteristiche tecnologiche già proiettate nel futuro che dire provatelo scoprirete un mondo di opportunità nella gestione dei carichi il manipolatore di oggi per il lavoro di domani a presto Grazie a tutti.